Sì, è del 90 qualcosa. Poi sai, è un ragazzo difficile, è disadagiato, quindi non è che è preciso. Scusi, non ho capito, ma che problemi hai esattamente? Bambino purtroppo è nato da Lazio, ce l'hanno già detto allegrafia. Feto presenta caratterità laziali, è nato modalico, è uscito a gamba tesa, purtroppo è staminale. Staminale? Sono antropofichi, si mozzica la testa fra di loro come i zumbi. Il dottore cercava di rimetterlo dentro, ma lei si è opposta. Io in tutti questi anni ho addoperato me stesso cercando di seguirlo, di stagli dietro, ma puzza come una fogna.